Abbiamo fatto una bella squadra che a me piace veramente tanto, della quale sono orgoglioso, che rappresenta la nostra comunità in tutte le sue diverse sfaccettature e quindi non mi resta che dire il 10 di giugno votate per chi ritenete sia meglio per la nostra comunità. Fatto riferimento Pugelli a una squadra che rappresenta il territorio, ci sono state anche delle polemiche se non ricordo male in questa campagna elettorale nei confronti appunto del centro-destra che avrebbe proposto una squadra con una parte di candidati non legati al territorio. Cosa risponde? Allora, io rispondo così. Innanzitutto sono state sollevate queste polemiche perché andando ad esaminare i componenti della mia lista sono state trovate, c'erano delle persone di Prato e non ho difficoltà a dirlo. Certo, ci sono anche persone di Prato, sono una minoranza, la maggior parte sono in composizione poggese, però io mi sono scelta, ho scelto di affiancarmi delle persone anche di Prato, sono dei colleghi di partito perché ritengo delle persone valide, degli esperti in vari settori. Certo, ci sono dei colleghi di partito, ci sono dei colleghi di partito, ci sono dei colleghi di partito,